In collaborazione con Babylon Caffè, spiannata Castelletto, Genova Qualunque Mente Pizza, Piazza Garassini, Sette Rosso, Genova Marassi Rosticeria Castelletto, spiannata Castelletto a Genova Macelleria da Claudio, Via Canevari, 215 Rosso, Genova Amici ben ritrovati, siamo sempre qua su di Guida Sportiva Continuiamo subito a parlare del Genoa Lunedì Genova si è ritrovata al Shorba Il Belmister ha dichiarato che al Genoa serve un giocatore per reparto Sei d'accordo Ugo? Sicuramente, ora ti riprendi sempre per il discorso Ho tanta fiducia nel tecnico Sinceramente quello che a me preme di più È trovare un altro Matusale, un sostituto degno di questo giocatore Dalla sua forza, sarà difficile Per conto mio, lì bisogna andare a operare Operare bene perché non possiamo andare con Bertolacci e Sturaro Perché sono ottimi giocatori Ma pretendere che facciano quello che faceva Matusale Il quale sicuramente avrà avuto problemi fisici, disciplinari Tutto quello che vogliamo Però ecco, per me l'acquisto fondamentale è trovare un altro Matusale E non so francamente questo momento che ci potrebbe essere Perché lì è tutto Poi gli altri due ruoli, si può essere l'utilizzazione esterna Un'altra punta Ma il centrocampista che non c'è più Francamente bisogna andare a trovare Assolutamente È di qualità In effetti Paolo puoi trovare, non è facile Concordo pienamente, l'analisi è giusta Io l'avrei tenuto a gettone E poi avrei eventualmente preso un giovane che poteva subentare Giovane o comunque una persona anche con un minimo di esperienza E adesso ci sono un paio di nomi ma bisogna vedere Sicuramente una persona della stessa classe Delle stesse potenzialità di Matusale Non la troverà al Genoa E quindi soffriremo un po' Perché non dubito che inizieremo il campionato con un regista E poi ci vuole una seconda punta Ma sicuramente il punto focale è un regista Perché abbiamo visto cosa è successo Le ultime dieci partite senza Matusale Mi viene in mente Pizarro adesso così Ecco per dire un giocatore così Ecco mi viene in mente uno così Ecco allora quello È chiaro che ti tiene un reparto da solo Però ecco ci vuole più o meno uno Non è che possiamo Se ne parla prima in bassa frequenza con Paolo Ecco possiamo con tutto il rispetto Due bravissimi e validissimi giovani Che sono Bertolacci e Sturaro Però abbiamo visto che nel ruolo di Matusale Non hanno soddisfatto a pieno le aspettative Ecco diciamo Quindi per me il punto principale è quello D'altro ora è un giocatore di peso Ripeto Pizarro sarebbe un sogno Ma è un sogno forse Ecco Paolo Il mister ha anche dichiarato Che le basi della difesa per il prossimo anno ci sono Con De Maillot, Marchese e Burdisso Antonini quindi messo ancora da parte Secondo te rimarrà nel Genoa o verrà ceduto? Antonini tecnicamente non si discute Penso che sia superiore a due di questi tre Che hai annotato Il discorso di Antonini è un problema La cartilagine del ginocchio Che ogni tanto fa le bizze Quindi lui si deve fermare Fa storia appunto Matusale Che non essendo un giocatore Che è in grado di dare una continuità Al proprio campionato È stato praticamente stromesso E quindi diciamo che Antonini È su quella sequenza Su quella stessa onda Secondo me gli darà un'ultima chance Con i carichi di lavoro Durante il ritiro Per vedere come reagisce Però sicuramente I tre che hai annoverato Sono i titolari E lui punto di domanda Vediamo cosa fa Questo è il mio pensiero Secondo me Ugo invece mantenere Antonini Diciamo come titolare E nel caso sostituirlo All'occorrenza No Concordo con quello che ha detto Paolo Sinceramente Sul discorso di Antonini Non riesco a capire bene Forse Se questo è un problema Sicuramente fisico Seppure sotto c'è un iniziale accantonamento Non saprei Però ecco Sono d'accordo anche io Con Per esempio Io con questi treni Che avete fatto Suburdiso Qualche perplessità Ecco sinceramente Con tutto il rispetto Del giocatore Il professionista Cioè Non mi dà quelle garanzie Che mi aspetto Ecco Non mi sembra Così Ora poi Uno deve arrangiarsi Con quello che ha Siamo anche Diciamo anche così E poi ripeto Vado sempre Alle origini Il tecnico Siente con mano Ecco Però ecco Io di lui Sarà dura Ecco Sicuramente Scritto Sui giornali Questi giorni Gaspini ha detto Sarà dura Ma sarà dura Sarà dura Forse secondo te Ugo potrebbe essere Anche un problema Della difesa Che era già molto Debole fin dallo scorso anno Nelle ultime fasi Che comunque Anche Bordiso Non aveva molto convinto Quindi Andrebbe forse rivista Ma tutto vedi Veniva mascherato Finché c'era un campo Mattusalemme Perché quando vai Un centrocampo Che fa filtro Un centrocampo Che è un uomo di classe Di peso Arriva pochi palloni In difesa I difensori Fanno anche una discreta figura Quando poi invece Se è lo sbaglio Che in mezzo al campo Si trovano delle praterie O perlomeno Non c'è chi Giocatore Che dai tempi Alla squadra Che rallenta il gioco Che fa il lancio Di 40 metri Che fa il dribbling Che tiene palla Che passa palla Insomma Un giocatore universale Quel tipo lì Ti trovi in un reparto Dove poi gli avversari Vengono giù Allora ti trovi Che come difesa Hai tanto da lavorare Tutte le domeniche In contro Gestire una partita Sette o otto situazioni Magari di Così Di emergenza Ancora si gestiene Molte di più Ecco Se sei in difesa Dalla cavi Che arrivano pochissimi palloni Ne stanno bene tutti No? E ti riposi E giochi tranquillo Quando sei sotto pressione Poi è chiaro Che i gol Nascono dagli errori Quasi sempre A parte qualche bella azione Manovrata Degli avversari O tua Gli errori si fanno Perché si è stanchi Perché si è sotto pressione Perché non si è più lucidi Quindi insomma La copertura del centro campo Che è fondamentale E torno sempre lì Al discorso Che ci vuole un centro campista Bene Luana Demolarina la regia Che dici? Un attimino Torniamo In collaborazione con Babylon Cafè Spiannata Castelletto Genova Qualunque mente pizza Piazza Garassini Sette Rosso Genova Marassi Rosticeria Castelletto Spiannata Castelletto A Genova Macelleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Macelleria da Claudio Parola d'ordine Qualità Carne selezionate piemontesi Pollami allevato a terra Conigli, agnelli E suini di prima scelta Prova anche le nostre specialità gastronomiche Cima la genovese Ravioli fatti a mano di nostra produzione Trippa in umido E tanto altro Macelleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Ci accettano le ordinazioni E consegniamo a domicilio Macelleria da Claudio Scegli la qualità Niente È come un buon bagno Caldo e rilassante Ma non se trovi difficile O impossibile Entrare o uscire dalla vasca Allora Grazie a Bagno Reale Ti sarà semplicissimo Verrai abbassato dolcemente In sicurezza Fino in fondo alla vasca Premendo un pulsante E poi risollevato lentamente Per uscire Cambia la tua vita Non il tuo bagno Vi piacerebbe ritornare a fare Babylon Caffè Intenso Ora fervono le trattative A Coverciano Lega professionista Lega professionista Lega di B Carlo Tavecchio Della Lega di Tanti Si è già espresso Quindi insomma Un'anticipazione Non ne posso fare Che non ne so Speriamo che trovi un nome Così poi il calcio Parta finalmente Poi deve partire Paolo Tu invece vuoi raccontarci Qualche novità Allora Come responsabile Della scuola Tauciuan Liguria Posso dire Che anche noi Continuiamo tranquillamente I nostri corsi I nostri seminari Quindi sia per quanto riguarda Chiavari Genova e Acquiterme Siamo sempre attivi Lo saremo anche Il mese di agosto Forse da settembre Aprirò dei corsi Anche a Savona Quindi la famiglia Si ingrandisce Posso ricordare A chi avesse piacere Che può contattarmi Nel profilo facebook Tauciuan Liguria Dove ci sono poi tutti Appunto i nostri eventi In più vi porto Finalmente Faccio vedere Il mio libro Che adesso È quasi finito Però chi lo volesse Lo può già Tranquillamente In anteprima In anteprima mondiale Ebbene sì Si può vedere Sia all'ebook Gratuitamente Anche alcune pagine 12-13 pagine Iniziali del libro Oppure chi lo desidera Lo può acquistare Su www.ilmiolibro.it Come si chiama il titolo Il titolo è Come acqua sulla roccia La versione definitiva Ha un'impostazione Iniziale differente A una foto diversa Però è un libro Leggero Perché Sessantina di pagine circa Parla un pochettino Della mia storia Io dico che può essere Propedeutico Per chiunque Volesse entrare Un pochettino Nell'ottica Degli stili interni Del Kung Fu E quindi Una porta d'ingresso Per capire Qualcosina in più Di questa nobile arte marziale Se posso chiederti Come mai Questo titolo Come acqua sulla roccia Come acqua sulla roccia Perché È un modo Che si usa Nelle scuole di Kung Fu L'acqua che cade Sulla roccia Pian piano Disgrega E corrode La roccia stessa Quindi Un lavoro lento E continuo E costante Nel tempo Crea e forma La persona Bello Quasi quasi Lo metto su Facebook No veramente Se lo vuoi mettere Non c'è nessun copyright No no Ma proprio come pensiere È molto È molto bello Sì sì Ma se vai appunto Su Tao Chuan Liguria C'è qualcosa Ogni tanto C'è l'aggiornamento Bene Quindi grazie a Paolo Serra Grazie a voi Per il libro Grazie a voi Grazie a voi Come sempre Grazie Luana Grazie a me E grazie soprattutto a voi Esatto Ringraziamo il nostro pubblico Che sempre ci segue Su Liguria Tre Liguria Ovviamente Canale 118 Entella TV Entella TV Sport Tele Genova 2 E da questa settimana Anche su Antenna Blu Canale 16 Mi raccomando Seguiteci Luana Vi aspettiamo Assolutamente Ogni giovedì alle 21 E in replica Sabato Sempre alle 21 Grazie a tutti Alla prossima In collaborazione con Babylon Cafè Spianata Castelletto Genova Qualunque Mente Pizza Piazza Garassini Sette Rosso Genova Marassi Rosticeria Castelletto Spianata Castelletto A Genova Macelleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Grazie a tutti